Amici! JTP, fidanzata, sassofonato, codinato, vi ho radunati qui perché siete voi a dettare il gusto nella scuola. Il gusto allargato! Io vi presento oggi Papalla, un elettrizzante e dinamico sport del futuro che darà vita a un nuovo e fichissimo club scolastico. Perché hai cambiato idea? Dovevamo fondare un club di rasha. Vi ho convocati tutti in palestra oggi perché quello che vedrete è molto più di un gioco, è uno stile di vita. Io ci ho giocato, stanno un po' esagerando ma è divertente. Ho sentito dire che posso colpirti anche i testicoli. Adoro il vostro entusiasmo, io non sono soltanto il presidente del club, sono anche il campione mondiale di Papalla. Quindi è logico che dominerò io ma non lasciatevi scoraggiare. Avanti tutti fuori, Ruben Amaro Junior deverò dare le sue nuove scarpe. Ma ho riservato la palestra per il club di Papalla? Cos'è? Come funziona? Ah, ci sono mille regole, è troppo complicato per sé. Ehi, Ruben Amaro Junior, fallo entrare nel club. Già, tu vuoi che questo gioco sfondi, giusto? È il miglior atleta della scuola. Io non ho alcuna conferma che sia il miglior atleta della scuola e onestamente non sono sicuro che sia pronto a giocare. Guarda e impara, Papalla! Oh no, l'hai afferrata con una mano, ora hai un bono speciale. Puoi lanciare la palla in faccia a Barry o sulle sue noci, scelta tua? Le noci, ovviamente le noci. Esaltato, piantala di spiegargli le regole finché non... Che soruccio, tutto bene? Non ha detto Papalla. È un gioco spettacolare, lo raccomanderò a tutta la squadra. Ehi, coach, adoro questo club. Ruben Amaro Junior è con voi, è ufficialmente entrato nel club. Oh, punto, abbiamo vinto. Aspetta, questo ragnetto gioca con noi, perché se è così ci ripenso. Se Ruben lo odia, lo odio anch'io. Io sono il coach di Barry. No, io non so neanche chi sia questo alieno. Vattene via di qui, strano essere. Ma questo è il nostro sport, l'abbiamo inventato insieme. A volte nella vita bisogna fare scelte difficili, però questa è facile. Bye bye, Adam. Barry aveva appena aggiunto una nuova regola a Papalla. La pugnalata fraterna alle spalle.